ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo tornati più forti di prima uscirà a breve un altro video ancora strabello video del tour e comunque aspettate tenetevi aggiornati iscrivetevi al canale così non ve lo perderete oggi siamo tornati con questo video qui che ci porterà a tiltare molto probabilmente siamo in vocal con eric prodotti e nonni ciao ragazzi vi lascio il loro link in descrizione bella 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 e cosa facciamo giochiamo con i comandi divertiti io vi giuro che prima di questo video non ho fatto altri tentativi e non ho mai utilizzato questa funzione quindi sarà la prima volta che ci proviamo nel mentre siamo come al solito in live sul canale viola quindi vi ricordo di passarci anche quello primo link in descrizione e ok come si fa così 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 con salva o porca miseria nooo cos'è c'è difficilissimo una cosa assurda è la prima volta che ho provato sono tipo impazzito è il cervello che va in pappa perché la parte no vabbè no rega siamo abituati regati il teremo un bot sembreremo dei bot lasciamo perdere io volevo usare i conti come faccio ad usare i conti vabbè ci provo possibile ora di vedere cosa ma basta li conosco pregui ma cos'è no no vedete no cos'è sta roba ma ma per quanto siamo scarsi penso non la vogliamo farciare esatto vai mamma vai 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 no 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 ti giuro che l'ho fatta a posto fra rispetto è assurdo assurdo oddio oddio mio vabbè è impossibile sono arrabbiati sono arrabbiati no no ti giuro che fa io non ci provo a mettere l'impegno ma è impossibile come si fa no 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 pensano che stiamo giocando seri cioè faranno pure uno screen probabilmente io mi riesco anche a muoverli Ma che sofferenza Che sofferenza Mamma mia Bruttissimo Mai più Ma è proprio Cioè Il cervello deve prendere No mamma mia Prova a muoverti a mirare allo stesso tempo Prova a muoverti a mirare allo stesso tempo È un casino È un casino Non so perché io mi muovo con quella di sinistra Allo stesso ed è impossibile Dio buono Possiamo fare fine a questa sofferenza Passa la palla per favore No 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 Dio buono Sì Madonna mia che sofferenza ragazzi Allora proviamo ad andare un po' più bassi Così cerchiamo di giocarcela Io vi giuro provatelo Provateci ragazzi E fatemi sapere nei commenti Come Ve la giocate È impossibile Il cervello raga è tilta Tilta Mi esplode il cervello Oddio mamma Donny 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 Va bene Donny ci ha lasciato Rip Ok noi tutti due Oddio 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 no cosa sto facendo ma non sembrava se si gioca io vi giuro raga non l'ho provato prima non sto scherzando impossible oddio oddio o non riesco a muovere e ce la stiamo giocando ragazzi io non capisco come attenzione 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 regione le straggi non mi ce la puoi fare come? in un claim si completamente se che te se che te mi sto il gadget no necchilati tu ah ah un po ok no 1 la dobbiamo vincere 1 la dobbiamo vincere almeno 1 si almeno 1 si io non riesco a muovere no no così è impossibile si tirano da 100 allora ragazzi vi giuro non chiediamo il video fino a quando ne facciamo almeno una win almeno una win allora ok inizia la partita ragazzi 8 but io mortis e abbiamo 1 puntato fuori dalla squadra però ok ci mancherebbe così impari te l'ho sempre detto di non fare quando vaghi oddio quasi doppia quasi doppia oh sto imparando sto imparando sto imparando non mi ha lo gatto sono crashato buono 8 bit vai mammi no non troppo fa impossibile quasi doppia stai prendendo delle cose le hanno hanno sciotto cosa come ho fatto non comprendo io non comprendo cosa è stato teletrasporto tipo no no l'ha fatto passare in mezzo loro due tutta può ripassare è difficilissimo prodigy è difficilissimo madonna lascia io ora ho i pipistrelli volevo provvedere come li attivizzano cioè per me il gadget è inesistente oddio li ho usati bene eh mi sento stupido vai vai no dai dai ce la possiamo fare no no fai difficilissimo difficilissimo io sto sforzando il cervello trugio mediattore colp ecco provo di trickshot fra provo di trickshot oddio mamma oddio mamma oddio mamma eh no leone invisibile a destra ok eccolo come me lo faccio nice è difficile questa è molto difficile perché vi giuro è tosta è tanto tosta ma veramente la stiamo giocando davvero no no allora io ho detto devo accludere questo video almeno con una win ma non c'è modo con una win la voglia ti ho visto mhm hancio m non so chi sia almeno bulla ce lo canteriamo ma che c***o ma impossibile eh questo diventa pro eh questo diventa pro eh eh con questo mi muovo c***o ok forse non ho fatto migliore che cosa ma cos'è è stato detto che difficilissimi in questo punto non sto facendo cose sto facendo non facendo cose non si può mettere indietro in questo istituto il film si io lascio per prendere c***o difficilissimo c***o oddio cosa ho fatto passo passo con la foto aspetta con la rito ultimo tentativo ultimo arrico impossibile dai vi prego da questi randomini ma non mi hanno mi sentite come uno non mi ha chiesto c***o un po' atto fermo eh possano ma notta oddio bravi 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 ce la fai tra no no robota mortis è il principio un gaggetto caso mi piace qua faccio un problema oh dica dica no c***o c***o fai impossibile sto facendo auto game io non me ne manderei no i non ci credo si come ti metti sto video io lo so io l'ho consigliato il circo no è impossibile non si può giudicare allora io vi sfido sfido uno di voi a mandarmi una click su un'email o dove volete dove vincete con i comandi divertiti vuole una win dove fa un trick ovvio che dovete essere con i comandi divertiti dovete essere tutti e tre del team con i comandi divertiti se no non vale io vi ringrazio per aver visto questo video 1500 like noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi